Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi volevo parlare con voi e portare appunto come argomento sul canale una curiosità, una cosa che ho notato sin dal primo giorno che mi sono recato per la prima volta in Thailandia e che penso molti di voi abbiano notato una volta che appunto si sono recati in Thailandia per una vacanza o per un periodo più lungo. Sicuramente avrete notato anche voi che in Thailandia le persone tendono a utilizzare lo smartphone molto più tempo rispetto a quanto normalmente le persone facciano in Italia o se vogliamo comunque in Europa. Pensiamo soltanto quando ci è capitato di passeggiare in questi mercati serali oppure nei shopping center, nel department store. Vediamo che anche le persone che lavorano nei negozi nel momento in cui non hanno magari dei clienti da servire o clienti con i quali parlare, bellamente utilizzino lo smartphone e si guardino direttamente dei video o si stiano guardando direttamente delle serie TV o ancora hanno semplicemente il telefono in mano per smanettare, chattare, utilizzare i social media. E questo mi è capitato di vederlo anche, ad esempio, in magari delle cene con tante persone a un certo punto della serata praticamente tutte le persone hanno in mano lo smartphone, smanettano, si fanno gli affari propri e senza, diciamo, quella tipica usanza che in Europa si ha di interloquire, di chiacchierare durante la cena. No, lì ho notato che le persone tendono semplicemente a utilizzare lo smartphone e stazio in maniera, se vogliamo, che è appartata. Appunto, a seguito di queste considerazioni ho fatto due ricerche su internet e ho in realtà notato come questa cosa della Thailandia e anche dei paesi asiatici in generale non è soltanto una cosa tailandese, effettivamente è una cosa evidenziata anche da studi e ricerche fatte sul mondo digitale, è stato pubblicato, infatti, se mi vedete leggere come sempre perché ho un piccolo appunto qui sotto, è stato pubblicato un Digital Global Overview nel quale vengono descritte le tendenze di uso della parte digital nei vari paesi del mondo e effettivamente la Thailandia è risultata al primo posto per quanto riguarda l'utilizzo di internet per ogni giornata, quindi mediamente c'è un utilizzo di circa 9 ore al giorno di internet in Thailandia che è il primo posto di questa classifica e sicuramente questo è un dato che la mette davanti anche a un altro paese con un utilizzo molto accentuato che sono le Filippine e quindi anche qui ancora un altro paese asiatico oltre alla Thailandia non solo la Thailandia, è prima anche nella graduatoria che vede i paesi che utilizzano di più il mobile internet quindi in questo caso stiamo parlando proprio della connessione internet e dell'applicazione di internet direttamente dallo smartphone e qui l'utilizzo medio è circa 4 ore e 50 minuti quindi sicuramente questo ci dà una dimensione quantitativa di come a quell'effetto che probabilmente, ripeto, anche molti di voi avranno notato di sovrautilizzo dello smartphone effettivamente trova un riscontro anche in questi numeri c'è un'ulteriore statistica che secondo me è interessante è quello del time spent on social media cioè il tempo passato sui social network e anche qui la Thailandia occupa una posizione di tutto rispetto ed è addirittura, in questo caso, al quarto posto sempre a livello mondiale questo cosa ci fa dire? sicuramente non credo che ai thailandesi piaccia più che a noi chattare o giochicchiare col telefono quello che possiamo dire è che dal punto di vista del mondo digitale la Thailandia forse in questo momento è un pochino più avanti rispetto a noi si possono fare molte più cose trasferire il denaro è più semplice farlo in Thailandia lo si fa a costi minori e molto spesso si riesce a trasferire denaro in tempo reale cosa che ancora in Italia è, diciamo, non disponibilissimo e talvolta questo servizio è ancora un servizio che ha un costo quindi ragazzi, fatemi sapere se anche voi avete avuto questa impressione del fatto che gli italandesi utilizzino lo smartphone molto più di noi vi prego di lasciarmi qualche commento qui sotto ovviamente se il video vi è piaciuto per favore lasciatemi anche un like al video iscrivetevi al canale per supportarlo e come sempre allora al prossimo video ciao e grazie